Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca con il caso Tabeglione è stata trovata la Clio rossa della donna scomparsa da Bolognano nella notte fra venerdì e sabato scorsi e trovata senza vita restituita dal mare sulla spiaggia di Termoli nel giorno di Carnevale. Andiamo a vedere insieme il servizio. È stata una telespettatrice della trasmissione di Rai3 chi l'ha visto ieri sera a segnalare la posizione della macchina di Anna Maria Tabeglione. La Clio rossa, vecchio modello della donna scomparsa da Bolognano venerdì notte trovata senza vita sulla spiaggia di Termoli martedì pomeriggio, è stata ritrovata nella nottata sul lungomare Matteotti di Pescara poco distante dal porto canale del capoluogo adriatico. Tutte le tessere del puzzle quindi farebbero pensare ad un allontanamento volontario della mamma 55enne. La donna, dopo aver parcheggiato l'auto, potrebbe essersi recata sulla banchina nord e da lì essere scivolata in acqua oppure essersi buttata tra le onde. Sul lungo fiume in tutta l'area portuale ci sono delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver visto qualcosa, ma elementi maggiori dovrebbero arrivare dall'autopsia sul corpo della tabellione disposta dalla procura di Larino. C'è da dire che da una prima ricognizione cadaverica non sarebbero emersi segni di violenza o cadute, ma ovviamente chiarirà tutto l'esame autoptico. Sulla vicenda attualmente sono state aperte due inchieste, una della procura di Pescara per la scomparsa, l'altra della procura di Larino per la morte. La Cleo Rossa ora è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione della procura di Pescara e dei carabinieri all'interno del deposito giudiziale del capoluogo adriatico. È entrato verso mezzanotte nel bar 51 al centro di Pescara e con un grosso coltello da cucina ha minacciato un cliente costringendo il barista a consegnargli l'incasso della giornata, poi è fuggito su un ciclomotore risultato rubato a Francavilla al mare. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pescara lo hanno poi trovato in una palazzina del quartiere Rancitelli dove si era nascosto in vano. Si tratta di un 38enne della provincia di Foggia arrestato con le accuse di rapina e ricettazione. L'uomo è stato tradotto nel carcere di San Donato. I carabinieri stanno indagando anche su una rapina commessa ieri sera al supermercato Tigre di via Malagrida dove due persone con volto coperto e armate di pistola si erano fatte consegnare 1000 euro per poi fuggire a bordo di uno scooter. E proseguiamo con un'altra operazione dei carabinieri questa volta di Chieti che hanno fermato una BMW e hanno scoperto che trasportava 17 chili di droga. A bordo c'era un 28enne albanese proprietario dell'autovettura che è stato fermato e portato in carcere a Chieti con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo insieme il servizio. 9 chili di marijuana e 8 di asci. In totale 17 chilogrammi di droga che un albanese di 28 anni incensurato e residente a Montesilvano trasportava nella sua autovettura una BMW di grossa cilindrata. L'attività di pedinamento portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Chieti ha consentito di fermare il veicolo ieri pomeriggio a Francavilla nella zona nord della città lungo la statale 16. Il giorno di San Valentino forse aveva suggerito al 28enne che i controlli sarebbero stati più blandi. Invece i militari lo seguivano da giorni insospettiti dal tenore di vita troppo alto per un ragazzo senza lavoro, macchina costosa, cene galanti al ristorante tutti i giorni. Così lo hanno fermato e nella perquisizione dell'auto all'interno di un borsone nero trasportato nel cofano hanno trovato la droga divisa in diversi involucri proveniente con ogni probabilità dai Balcani. Stupefacente di alta qualità dicono i carabinieri che comunque affideranno la droga al NAS per gli accertamenti di rito. Il valore di mercato stimato è attorno ai 150.000 euro che sarebbero stati guadagnati nelle piazze dello spaccio dell'area metropolitana. Non è chiaro se il 28enne sia soltanto un corriere o se invece si dedicasse in prima persona allo spaccio. Nella sua abitazione di Montesilvano i carabinieri hanno trovato 600 euro in contanti in bacconote da 50 euro. Negli ultimi tempi, riferiscono sempre gli investigatori, aveva frequentazioni con diversi pregiudicati da editi allo spaccio. Dunque la droga potrebbe essere una parte di un traffico più vasto e il giovane ora in carcere a Chieti solo un ingranaggio del sistema. Le indagini infatti proseguiranno. Potrebbe essere o un semplice viaggio come accade spesso oppure far parte effettivamente di un'associazione ben più delineata e ben più organizzata che provvede comunque a importare nel territorio nazionale e in particolare sulla nostra costa ingenti quantitativi di droghe. E proseguiamo con la cronaca. I militari del nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno scoperto una maxievasione da 72 milioni di euro per una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso di materiale elettrico. I finanzieri su provvedimento del GIP del Tribunale di Sulmona Giorgio Di Benedetto e su richiesta del sostituto procuratore Aura Scarsella hanno sequestrato 35 milioni di euro della stessa società ai relativi amministratori e rappresentanti legali bloccando conti correnti bancari, postali e quote societarie. Alla scoperta si è arrivati al termine di una articolata attività di indagine condotta appunto dalle fiamme gialle che hanno individuato nell'ambito delle attività di monitoraggio questo soggetto economico di dimensioni rilevanti operante nella provincia aquilana. L'attenzione dei finanzieri è stata attirata dalle discordanze fra la banca dati contabile indicata sul sito web della società e quella che si può riscontrare sulla banca dati in uso al corpo. I successivi accertamenti hanno evidenziato che il contribuente nonostante avesse conseguito profitti appunto per 72 milioni di euro non ha presentato dal 2011 al 2015 le dichiarazioni evadendo così le imposte. Restiamo sempre nell'Aquilano, andiamo nel Fucino. Centinaia di flaconi fitofarmaci sono stati rinvenuti in un canale di scolo del Fucino nei pressi della strada 43 fra Avezzano e Luco dei Marsi. La denuncia della discarica abusiva è stata presentata da un consigliere del Movimento 5 Stelle avezzanese Francesco Eligi contro i gnoti. Lo stesso aveva postato sul suo profilo Facebook delle foto dello smaltimento illecito. Il materiale rinvenuto composto da flaconi vuoti di fitofarmaci è altamente inquinante ed andrebbe smaltito come rifiuto speciale. Sentiamo il servizio dei colleghi di Info Media News. La discarica di flaconi vuoti di fitofarmaci che potete scrutare e vedere attraverso le nostre immagini si trova nel mezzo del cuore agricolo Fucenze da non si sa bene quanto tempo a rendere marcio l'ambiente circostante. I fitofarmaci sono prodotti di sintesi o naturali che vengono sovente utilizzati per debellare le criticità o le malattie delle piante. Siamo in compagnia del consigliere pentastellato del comune di Avezzano. Come è avvenuto lo scoprimento di questa riscarica? Su segnalazione di un amico, poi siamo venuti a fare un tour, una passeggiata. Purtroppo di immondizie ce ne sono in ogni dove lungo le strade del Fucino, ma questa in particolare riguarda dei rifiuti speciali e pericolosi e quindi l'abbiamo segnalata alle autorità giudiziarie. Le indagini sono condotte dalla stazione dei carabinieri forestali di Avezzano. Sono di fatti almeno 10 giorni di orologio che stanno andando avanti le verifiche e gli accertamenti lungo i canali del Fucino a seguito del rinvenimento proprio di questa tipologia di rifiuti. Questa stessa tipologia di materiale, cioè è stata rintracciata anche in altri canali di scolo della zona, il tutto quindi rientrerebbe in un'attività di monitoraggio e di contrasto ad hoc condotta proprio dai carabinieri forestali sul luogo dell'abbandono. Intanto devo dire questo, che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, in questo caso dei rifiuti speciali, non è nuovo. Devo precisare che non si tratta di strada 43, come invece ieri sera abbiamo fatto un sopralluogo, non abbiamo proprio visto nulla, perché invece è quello che noi chiamiamo lo stradongino. Questa mattina, proprio davanti alle nostre telecamere, è stato effettuato il sopralluogo anche da parte della polizia locale con stretta competenza territoriale ricadente entro i confini di Luco dei Marsi e della Sejan, ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in un'area robusta della Marsica. Io pensavo sinceramente di trovare una cosa specifica, magari nuova, invece questo pezzo di fosso numerale, che poi è di competenza comunque del Consorzio di Bonifica, mi pare che sia interessato da questa pratica di abbandono dei rifiuti speciali quasi quotidianamente. La competenza del Consorzio non ce l'abbiamo, perché questa è una strada comunale e è competenza del Comune di Luco dei Marsi, è competenza. Il Comune di Arezzano l'abbiamo raccolta pure noi e abbiamo fatto i sacchi. Con il Comune di Luco dei Marsi però pare essere agli sgoccioli l'approvazione ingiunta della convenzione che dovrà intrecciarlo con il Consorzio di Bonifica a Ovest, proprio per la pulizia e la cura dei canali fucensi, di competenza comunale come avviene già per Celano e per Arezzano. Ora toccherà all'arta espletare i rilievi e i riscontri del caso. Nell'attualità dei fatti è dal primo di febbraio che i carabinieri forestali hanno deciso di intervenire proprio sull'abbandono di fitofarmaci. È stato non a caso aperto un fascicolo interno che sarà successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica di Avezzano. Voltiamo pagina. I consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri attaccano il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso parlando di tipografia D'Alfonso con nomine in campagna elettorale. Sentiamo. Febbo si parla di delibere della giunta regionale. Voi avete parlato di tipografia D'Alfonso questa mattina in conferenza stampa. Perché? Abbiamo anche detto che la banda dei falsari non sanno neanche fare perché sono atti che basta una semplice controllata e ci si rende conto di quello che si fa. Mancano le firme sostanziali dei dirigenti, cioè di coloro che certificano l'atto. Mancano gli assessori, mancano le relazioni, manca tutto. Manca il segretario generale che funge da notaio e quindi certifica la validità della seduta e dell'atto. Addirittura ci sono dei libri dove non si sa quali sono gli assessori assenti e assessori presenti. C'è il direttore Bernardini che oltre ad essere direttore del personale, del patrimonio e tante altre cose, direttore del bilancio e tante altre cose. Quindi due direzioni importanti. Adesso funge anche da direttore della sanità, altro carico da 90. Siccome la dottoressa Valenza che è il segretario indicato a monte, quindi il direttore di giunta a fungere da segretario, quindi da notaio, non partecipa più alle giunte, firma sempre Bernardini. Ma il problema qual è? Che sono atti che però hanno delle rigadute in termini sanitari e quindi importanti sui territori, ma anche in termini elettorali. Addirittura le delibere non hanno i numeri legali, perché in alcuni casi l'assessore Paolucci, che non può fare il notaio di giunta, cioè il segretario, perché è un politico e non è un funzionario, funge da segretario e addirittura vota o l'uno o l'altro. Sono tutti atti che chiaramente invieremo a chi di competenza, perché sono tutti atti che noi, siccome vinceremo le prossime elezioni regionali, non vogliamo annullare, perché li condividiamo, ma devono essere fatti secondo i crismi, quindi devono avere l'ufficialità. Non vorremmo essere noi poi costretti ad annullarli e quindi assumerci queste responsabilità. Le responsabilità di questi misfatti se le deve assumere da Alfonso e compagni. Andiamo avanti ora, ci spostiamo sul Gran Sasso dove continuano i problemi. Andiamo a vedere lo storico rifugio di Monte Cristo. La CGL affonda duramente intanto sul centro turistico dipendenti senza stipendi. Assurdo, secondo il segretario Fontana. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Al peggio davvero non c'è mai fine. Queste sono le immagini abbastanza eloquenti di com'è ridotto il rifugio Monte Cristo sul Gran Sasso. Uno stato di abbandono e degrado che davvero fa gridare allo scandalo. La situazione del Gran Sasso resta sempre più complicata, con una stagione che non si sa quando partirà, non c'è una data ufficiale, anche se i lavori alle fondari sono finite ma sono in corso i collaudi, e tante altre risposte che bisogna ancora dare. Mai avremmo creduto di dover denunciare tanto sfascio. Questo è quello che intanto scrive la segreteria provinciale dell'Aquila di Filt CGL sullo stato del centro turistico del Gran Sasso, la municipalizzata del comune, che dovrebbe gestire la questione. L'affondo è di Domenico Fontana. La situazione dell'azienda, scrive, ormai non trova altra definizione possibile se non quella di abbandono, una nave senza capitano né timoniere. Una stagione invernale compromessa, alberghi chiusi, indotto fermo, addirittura dipendenti remunerati con acconti delle retribuzioni, senza cedolino paga, ovviamente in arretrato con le spettanze. Una condizione oramai non più tollerabile, non sappiamo quanto legittima. Non conosciamo casi di dipendenti di altre aziende partecipate dal comune pagati conforme di acconto né di mancanza di buste paghi. L'azienda ha urgenza di una guida a tempo pieno. L'attuale condizione non fa altro che aggravare lo stato comatoso, le inefficienze di pochi non possono ricadere su chi ha il proprio dovere, lo compie nonostante tutto. Siamo al punto che l'azienda, dice Fontana, non riesce ad incassare nemmeno quanto dovuto per contratto di servizio dal comune. A volte comunicazioni errate tra l'azienda e l'enti, altre volte documentazione di regolarità contributiva scaduta non in ordine. Insomma, una vera caporetto della gestione aziendale. Certo, i problemi vengono da lontano, ma mai come oggi i dipendenti sono frastornati ed abbandonati. L'azienda non può vivere di autogestione. Nelle sorti possono essere affidati a dipendenti dell'enti a metà tempo. Chiediamo alla politica di assumersi le proprie responsabilità e di farlo prestissimo. Lì, intanto, le cose continuano ad andare allo sfascio in alta quota. Pensate all'albergo di Campo Imperatore, uno dei gioielli, l'albergo di Mussolini, conosciuto in tutto il mondo. Lì ormai ci piove dentro, la cucina è piena d'acqua che scende e la situazione non può andare più avanti così. Certo, ci sono dei lavori da fare, ma era essenziale, almeno con la ripartenza della stagione invernale, sistemare il primo piano e rendere accessibile per i turisti. Ma nella cucina ci piove dentro. Il comune di Lanciano corre ai ripari dopo i numerosi furti e gli atti vandalici che sono stati commessi all'interno delle scuole della città, installando dei sistemi di videosorveglianza e degli impianti di allarme. Vediamo il servizio. Dopo raid vandalici e furti nelle scuole di Lanciano, gli assessorati a istruzione e lavori pubblici corrono ai ripari, con una variazione di bilancio da 80 mila euro approvata a fine anno scorso, portata in consiglio dallo stesso assessore Giacinto Verna, il comune ha preso diversi provvedimenti, tuttora in corso. Innanzitutto l'installazione degli allarmi e impianti di sicurezza, a cominciare dalla scuola media Umberto I, più volte presa di mira. Seguirà nei prossimi giorni la D'Annunzio, poi la scuola di Marcianese e poi le medie Mazzini. Fondi sono stati impegnati anche per arredi e manutenzione varia, con interventi non più procrastinabili. I raid nelle scuole avevano fruttato l'anno scorso, ai ladri, alcuni arrestati e un romeno condannato in queste ore, decine di computer e tablet utilizzati per la didattica. Era un impegno che io mi ero assunto già da assessore alla pubblica istruzione, immediatamente dopo alcuni furti avvenuti tra l'estate del 2017 e il novembre 2017. era un impegno, come dicevo, che mi era assunto, quello di verificare la possibilità di insistere all'interno di alcune scuole degli allarmi sonori anti-intrusione e che finalmente, proprio in questi giorni, stiamo già montando. In particolare all'Umberto I abbiamo già messo un impianto dotato di telecamere, di rilevatori sonori che attraverso tablet, smartphone, attraverso un semplice computer in remoto non solo registrano, ma avvisano con delle SIM i responsabili della stessa scuola, addirittura se volessero le scuole anche delle forze dell'ordine. La stessa cosa come copertura dal punto di vista dell'impianto di allarme delle zone sensibili lo abbiamo già fatto alla scuola primaria di Marcianese e proprio nei prossimi giorni faremo la stessa operazione. Nell'altra scuola che è stata toccata da questo gravissimo fatto, cioè dall'intrusione e dal furto, lo faremo presso la scuola d'annunzio. Il mio impegno e l'impegno di tutta l'amministrazione è fare in modo che dopo l'approvazione del bilancio nel mese prossimo si possano mettere in conto altri soldi per fare in modo che dal prossimo anno scolastico altre scuole possano essere dotate di questi sistemi di allarmi. Un obiettivo che io mi prefigo perché trovo inqualificabile e ingiusto che si continuino a perpetuare degli atti vandalici e dei furti in quello che io definisco la casa nella quale i nostri bimbi, i nostri figli vanno a formarsi e vanno a educarsi. Ora andiamo avanti. Blitz del capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara Marcello Antonelli nel suo presunto nuovo ufficio all'interno della sede della regione Abruzzo in Viale Bovio che dovrebbe essergli consegnato come richiesto dal governatore della regione D'Alfonso a Trenitalia S.P.A. Sentiamo. Marcello Antonelli ha risposto alla chiamata del presidente D'Alfonso oggi venuto in regione a vedere il suo nuovo ufficio. Sì, più che altro rispondo alla intimidazione di D'Alfonso che è palese nell'unico modo che conosco. Rinanciando la sfida che io non mi faccio intimidire continuerò la mia azione di contrasto a una cattiva politica che è quella che porta avanti il presidente D'Alfonso e il sindaco Alessandrini insomma continuo ad esercitare il mio mandato che mi è stato affidato dai cittadini di Pescara. E quindi adesso comunque voglio vedere in che condizioni la struttura del presidente D'Alfonso lavora soprattutto verificherò questa mattina se la dottoressa Di Stefano che è una dipendente pagata dal comune di Pescara e quindi dai cittadini pescaresi lavora effettivamente al monitoraggio degli interventi finanziati con il masterplan come D'Alfonso ha fatto sacramentare in qualche modo in una delibera della giunta comunale e quindi vado ad esercitare le mie funzioni perché è un mio preciso dovere prima che un diritto. Vogliamo un attimo spiegare qual è l'antefatto del gesto che lei sta compiendo questa mattina? Sì, l'antefatto è il seguente. Io ho sollevato la questione di una dipendente del comune di Pescara che è stata distaccata a spese del comune di Pescara e quindi cittadini pescaresi a lavorare nella struttura del Presidente della Regione. È noto che questa dipendente si è occupata finora della gestione dell'agenda del Presidente. Poiché ufficialmente invece dovrebbe risultare lo svolgimento di ben altre mansioni adesso vengo a verificare che tutto questo avvenga. Il Presidente Alfonso evidentemente non ha gradito questa mia azione e ha scritto all'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato da cui dipendo sollecitando un mio trasferimento presso la struttura regionale. Io leggo tutto questo come un atto volgarissimo di intimidazione anche perché il suo segretario particolare ha rilasciato interviste al blog ma però in cui dichiara che è un atto di ritorsione nei miei confronti per aver sollevato giustamente e doverosamente la questione del pagamento dalla dottoressa Di Stefano, dalla segretaria Ida Alfonso. Quindi questo è l'antefatto. Adesso il seguito lo vedremo qui e nei tribunali della Repubblica. Cambiamo decisamente argomento. Dalle piazze e dagli ospedali di oltre 40 città in tutta Italia e anche in Abruzzo sono stati lanciati in cielo 15.000 palloncini dorati biodegradabili con il nastro d'oro simbolo dell'oncologia pediatrica per celebrare la sedicesima giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro. Un dato impressionante, nonostante gli enormi progressi nelle terapie fatti negli ultimi anni. I numeri raccontano di un cancro che continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici tra le malattie non trasmissibili. Ed in Italia ogni anno si ammalano di tumore 2.200 bambini e adolescenti con un bambino su 650 che ha meno di 15 anni. Proprio per accendere i riflettori sul fenomeno e sensibilizzare le istituzioni si celebra oggi la sedicesima giornata mondiale promossa in Italia dalla Federazione Italiana Associazioni Genitori Onco-Ematologia Pediatrica. Tante le iniziative nel nostro paese e in Abruzzo dove sono stati lanciati in cielo palloncini dorati biodegradabili con il nastro d'oro simbolo dell'oncologia pediatrica. Il messaggio da lanciare, sottolinea la presidente dell'associazione IOP, Franca Fagioli è che si sono fatti enormi passi avanti tanto che le percentuali di guarigione ora arrivano anche all'80-90% mentre erano solo del 10% meno di 40 anni fa ma per migliorare ulteriormente, soprattutto per i tumori infantili più difficili è necessario sviluppare nuovi farmaci che siano sperimentati e testati direttamente sulla popolazione pediatrica ciò per garantire una maggiore efficacia ed un'azione più mirata. Cambiamo ancora argomento durante gli scavi nella chiesa di Sant'Antonio fuori le mura all'Aquila in località Pile sono stati ritrovati gli scheletri di due innamorati la scoperta è stata annunciata dalla soprintendenza nel giorno di San Valentino cioè nella giornata di ieri reperti importantissimi per la particolarità della loro posizione infatti sono abbracciati sentiamo il servizio Nel giorno di San Valentino dagli scavi affiora un legame eterno Sant'Antonio due giovani affiancati accuratamente composti nella stessa sepoltura nella chiesa di Sant'Antonio fuori le mura a Pile una nuova interessante testimonianza dal passato nelle tombe in corso di scavo nella chiesa la notizia è stata data dalla sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Aquila e Cratere è di questi giorni infatti l'individuazione di una affascinante sepoltura simultanea di due giovani individui un uomo e una donna di circa 20 anni uno accanto all'altro con i corpi accuratamente composti con le braccia incrociate sull'addome e i volti rivolti l'uno verso l'altro il rinvenimento si inquadra nell'indagine in corso nella chiesa di Sant'Antonio fuori le mura a Pile che accoglie altre sepolture individuate nello stesso contesto databile presumibilmente fra il XIV e il XV secolo d.C. e in corso di studio e testimonia un caso particolare di sepoltura dalla quale emerge un forte legame affettivo tra i due individui che va oltre la morte sulle testimonianze antropologiche sinora emerse e su quelle che verranno alla luce anche nel proseguo dei lavori la sovrintendenza attiverà delle indagini specifiche finalizzate ad acquisire maggiori informazioni e dettagli come l'età esatta degli individui ed eventualmente le cause della morte le indagini in corso sono seguite dall'archeologo Alessio Cordisco sotto il coordinamento e la direzione scientifica della sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Aquila e Cratere si conferma ancora una volta dice la sovrintendente Alessandra Vittorini la ricchezza delle storie che emergono dai lavori di restauro e di ricostruzione della città ricchezza che richiede ancora una volta la massima cura e attenzione necessarie per le indagini gli studi scientifici le misure di tutela e di valorizzazione Ed ora siamo alla pagina dello sport partiamo dalla serie B Buone notizie per Zeman a Chiavari il tecnico bohema del Pescara potrà contare regolarmente su proietti a centrocampo dunque pienamente recuperato il playmaker biancazzurro dopo gli acciacchi fisici che lo hanno tormentato e il recente infortunio al polpaccio ieri l'ex Bassano ha partecipato regolarmente alla seduta di allenamento e con l'entella potrebbe essere già al centro della mediana ai suoi lati ci saranno Valsania da una parte e Brugman Man of the Match contro la Salernitana dall'altra se non dovesse farcela Proietti invece Zeman si affiderà nuovamente alle geometrie di Carraro panchina per Coulibaly in difesa torna a disposizione anche Campagnaro che potrebbe partire dal primo minuto riprendendosi il posto al centro insieme a Perrotta al posto di Gravillon il trio davanti sarà quello sceso in campo sabato scorso con Iemga e Mancuso ai lati di Pettinari ancora fuori causa Falco che potrebbe tornare in campo solamente la prossima settimana nella gara interna contro la Cremonese in casa Intella invece sarà squalificato Ceccarelli mentre in dubbio la presenza in campo di Nizzetto fuori causa per infortunio invece Pellitzer Troiano Lupi e Diav dunque qualche problema di formazione per Aglietti che dovrebbe proporre un 3-5-2 con De Santis Benedetti e Cremonese davanti al portiere Pescarese Jacubucci davanti coppia d'attacco formata da De Luca e Lamantia non partirà dall'inizio invece l'ultimo arrivato in casa Ligure l'attaccante albanese Lullacu che ascoltiamo in questa intervista Tanta esperienza internazionale anche con la Maia della Nazionale cosa porti a Chiavari come motivazione anche dal punto di vista tecnico? Io spero di portare un po' di freschezza spero di portare qualcosa di nuovo e cercherò di dare il massimo per arrivare da questo momento non felicissimo La tua storia di uomo e di calciatore racconta comunque di un uomo che lotta sempre caratteristiche che possono venire utili soprattutto a Lentella in questo momento Sì è questo che mi ha portato fin qua ho sempre avuto voglia di giocare a calcio ho sempre avuto la fame spero di continuare con questa mentalità e di andare più su possibile Lentella in questo campionato ha iniziato con un trequartista e due punte adesso gioca con il 4-3-3 dove ti vedi tu in un ipotetico modulo? Io fortunatamente gioco in tante posizioni gioco come esterno destra sinistra oppure come seconda punta quindi per me questi due moduli sono compatibili insomma poi dipende dal mister che lui dove vorrà mettermi io cercherò sempre di dare il massimo in qualunque posizione Sì io ultimamente ho giocato molto a sinistra questa è la qualità di rientrare di avvicinarmi sempre di più all'aria e quelle sono le mie caratteristiche poi dei cross che vengono dalla parte destra oppure io sul secondo pole insomma preferisco sempre essere dentro l'aria ed è lì che sono più pericoloso lasciamo la serie B adesso scendiamo di categoria in serie C in casa Teramo situazione delicata in vista della gara di sabato pomeriggio contro la Feralpi Salò annullata la conferenza stampa pre-gara di Ottavio Palladini che cerca un risultato positivo per rilanciare le ambizioni della squadra bianco-rossa attesa da un trittico di gare fondamentali prima dello scontro diretto contro il Sant'Arcangelo per la salvezza sentiamo il servizio di Jacopo Forcella la trasferta di Salò è la prima tappa di un trittico che il Teramo spera sia di assoluto rilancio dopo la figuraccia di fermo la squadra di Ottavio Palladini ha limitato a zero i contatti con l'esterno solo il direttore sportivo Sandro Federico è deputato a parlare la conferenza stampa pre-gara del tecnico con ogni probabilità non ci sarà difficile capirne a fondo le motivazioni ma in questo frangente la concentrazione viene prima di tutto e la gara del Turino è fondamentale per l'universo bianco-rosso a partire dal presidente Campitelli mai così sotto pressione anche a causa dei risultati che faticano ad arrivare la campagna acquisti dovrà per forza di cose dare i suoi frutti e quello slancio che serve come l'ossigeno al diavolo la rosa sta piano piano recuperando anche gli elementi indisponibili in queste settimane per ventola ci vorrà ancora qualche giorno ma l'esterno ha ricominciato a fare giri di campo già questa è una difensivo non dovrebbe avere particolari problemi a centrocampo ci potrebbero essere dei cambiamenti col ritorno dal primo minuto di De Grazia al posto di Varas Amadio e Ilari sembrano certi di un posto ma dopo una settimana del genere il condizionale è d'obbligo per tutti non sono escluse delle sorprese nella zona mediana in campo e davanti Gondoe il riferimento avanzato il panico visto anche il corteggiamento invernale l'acquisto riuscito non può essere subito messo in disparte dal punto di vista della forma l'unico davvero impossibile da toccare è Antonio Bacio Terracino sempre in gol nelle ultime giornate ma naufragato con la squadra quando questa ha perso per l'ennesima volta la bussola la gara di Salò sarà la prima del trittico che prevede anche Bassano in casa e Padova fuori e che porterà il prossimo 11 marzo alla gara contro il Sant'Arcangelo che potrebbe valere buona parte della stagione il Teramo conta di arrivare a quella sfida in condizioni migliori di oggi sia a livello morale che di classifica è tutto anche per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti